Bisognerebbe capire, si pagano insieme, si pagano suddivise, quindi... Soprattutto in questo periodo, aggiungerei. Quindi la cosa basilare, dobbiamo aprire un conto corrente. Che differenza c'è tra il conto corrente nominale, quindi intestato a me, intestato al mio compagno, cointestato, intestato a tutte e due, e sul mio conto corrente o mio del compagno la delega. Quindi, proprio così, semplicemente... Beh, direi sì, che molto spesso la delega viene usata come sinonimo di intestazione e non è così. Come? Invece si dà per scontato che un conto cointestato sia 50 e 50. Quindi, insomma, ci sono alcuni concetti che si danno per scontati che così scontati non lo sono. Sicuramente il conto monetato è molto semplice, nel senso che comunque è intestato ad un unico soggetto che corrisponde al codice fiscale di questo soggetto, e l'operatività che viene eseguita all'interno di questo strumento, di questo supporto. Il conto corrente è come se fosse un... è un servizio bancario, ma è come se fosse un contenitore dove noi facciamo arrivare della liquidità e dove noi la facciamo uscire per effettuare le nostre operazioni. O magari laddove ci siano investimenti ci sia anche un dossier titoli piuttosto che un portafoglio investimenti. Chiaramente su questo conto corrente noi possiamo dare delega a una terza persona, possiamo darla al nostro compagno, come possiamo darla ai nostri familiari, eccetera. Per quale motivo si dà la delega? La delega ha lo scopo di essere un'opportunità di eseguire operazioni anche senza la nostra presenza. Ma cosa vuol dire eseguire operazioni? Quali operazioni? Le operazioni che vengono eseguite sono in nome per conto nostro. Quindi facciamo un esempio pratico. Sono a casa con l'influenza, con il Covid, devo effettuare un pagamento urgente, ovviamente non ho il collegamento internet, non ho la possibilità di farlo in autonomia, il mio compagno è delegato sul mio conto, devo fare questo pagamento, un bonifico, un pagamento di un bollettino, qualsiasi cosa sia, il mio compagno in nome per conto mio si reca in banca e può fare per effetto della delega, cioè per effetto del fatto che io ho autorizzato la sua persona ad operare per conto mio, ad eseguire questo pagamento. Quindi il mio compagno opera in nome per conto mio. Non è che il mio compagno effettua operazioni sue, proprie, sul mio conto corrente. Quindi se per esempio dovesse avere un assegno circolare, per fare un esempio, intestato a se stesso, non è che è autorizzato a prendere questo assegno circolare e farlo passare dal mio conto corrente e poi magari prelevarlo o ritirarlo, perché questa non è l'operatività autorizzata. Questo è importante perché la delega non è estensiva, che chiunque inteso nell'ambito della delega può fare proprie operazioni sul mio conto. No, lui deve, questa persona è il soggetto autorizzato, il mio compagno, mia sorella, mia mamma, deve eseguire operazioni al posto mio, in sostituzione a me, perché in quel momento non potevo. Avere un conto contestato invece è una cosa ben diversa. Entrambi siamo i titolari, abbiamo la titolarità del conto corrente. Questo quindi cosa succede? Autorizza che sia noi, sia io, che la persona contestata con me e entrambi possiamo operare, possiamo scegliere se farlo congiuntamente o disgiuntamente, quindi necessariamente con entrambe le firme oppure in maniera autonoma, ma io posso fare le mie operazioni e l'altra persona può fare le sue operazioni, perché è un conto contestato. Chiaramente cosa succede? Perché prima vi ho provocato dicendo si dà per scontato che un conto contestato sia di proprietà 50-50? Perché poi quando succedono, e la maggior parte delle volte succede nell'ambito della pianificazione successoria, nell'ambito della successione proprio intesa come successione legittima, succede che alcune persone hanno un conto contestato, ma in realtà ad alimentare la liquidità presente su quel conto è stato solo uno dei due. Quindi di presupposto si parte con l'idea che entrambi debbano e possano contribuire al conto contestato, ma in caso di una successione, di una lita ereditaria, se viene verificato che chi ha contribuito è solo ad esempio il soggetto premorto e non il soggetto contestato, non è automatico che la proprietà, la titolarità della liquidità su quel conto sia divisa a metà per intenderci, ma in realtà viene fatta una valutazione, una considerazione diversa. Quindi questo per dire che cosa? Si fanno i conti contestati quando su questi conti contestati, ad esempio, ci vanno delle spese condivise, comuni, che sono le spese della famiglia. Qual è il criterio? È ovvio che se mio marito ha un reddito che è il doppio del mio come busta pago, come reddito imponibile, non è che entrambi dovremmo mettere 1000 euro, lui 1000 euro o io, perché proporzionalmente io potrò contribuire per una liquidità che è inferiore. Però è proprio qua l'aspetto, che ognuno per la propria possibilità deve contribuire a questo conto contestato, perché saranno le entrate che vanno a coprire le uscite che sono le bollette piuttosto che le spese condivise. Molto interessante. Quindi questo aspetto è fondamentale per decidere se fare un conto contestato oppure no, perché spesso viene usata la delega come se fosse cointestazione ed è sbagliato. Perché per esempio, scusami ti ho interromputo, ma la precisazione è fondamentale, se io ho Mario Rossi che è intestato su un conto corrente, su questo conto corrente c'è della liquidità e io sono sua moglie e vengo delegata, in caso di primorienza del signor Mario Rossi, di mio marito o del mio compagno, io non potrò toccare un euro di quel conto, perché viene chiaramente bloccato in attesa della successione. La mia delega non mi autorizza nulla, mentre invece la cointestazione presuppone che la titolarità del conto corrente, a meno che non ci siano fatte altre verifiche, ma la cotitolarità del conto corrente va da sé che io, il mio 50%, possa avere accesso al mio 50%. Ok, bene, quindi cosa consigliamo a queste giovani coppie? Di avere ognuno il proprio conto corrente, di averne magari uno in comune per affrontare le spese, quelle che sono quotidiane? Sì, io sono per l'autonomia, l'autonomia anche come intesa come libertà, soprattutto non tanto dipendenza da qualcuno.